Ma quanto dura l'ergastolo in Italia? 26 anni? 30 anni? Cioè quanto resterà in carcere un uomo che si è macchiato di reati orribili e che per questo gli è stato applicato l'ergastolo? La realtà è un po' più complessa e non è sufficiente sparare qualche numero a caso per individuare la risposta precisa, però se segui questo video cerco di fartelo capire. Iniziamo con un po' di contesto. L'articolo 27 della nostra Costituzione stabilisce che la pena non può e non deve avere solo un fine afflittivo, punitivo, ma deve anche tendere alla rieducazione di una persona che ha commesso un reato e che per questo è stato condannato. E non fa distinzione tra un crimine grave o un crimine di tenue rilevanza. L'obiettivo finale quindi è sempre quello di reinserire il condannato nella società. Questo principio fondamentale della nostra carta costituzionale è uno dei pilastri su cui si basa l'intero sistema giudiziario italiano. Ed ora, se noi prendiamo l'articolo del codice che prevede l'ergastolo, questo in maniera chiara e netta ci dice che la pena dell'ergastolo è perpetua, una pena che quindi durerà per tutta l'esistenza del condannato. E allora come facciamo a conciliare il principio espresso dall'articolo 27 della Costituzione sul reinserimento in società del condannato con una pena come l'ergastolo che all'apparenza condanna una persona a passare il resto della sua vita in prigione senza la possibilità di reinserirsi all'interno della società. A prima vista quindi sembrerebbe che ci sia una contraddizione, però vediamo che cosa succede nella realtà. Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra l'ergastolo ostativo e l'ergastolo semplice. L'ergastolo ostativo è applicato per reati di particolare gravità come quelli legati al terrorismo, alla mafia, ed è una pena che rende molto difficile l'accesso ai benefici penitenziari, tra cui la liberazione condizionale. Ho intenzione di parlare più nel dettaglio di questa figura, però magari lo facciamo in un altro video. Oggi ci concentriamo sull'ergastolo semplice. Cioè questa pena, nonostante il nome possa suggerire il contrario, non condanna necessariamente una persona a trascorrere il resto della sua vita in carcere. Questo sempre nell'esigenza di bilanciare la pena al principio di risocializzazione. Per cui ci sono delle possibilità concrete per la cui realizzazione è però necessario che il condannato si impegni per riottenere la libertà. Ed ecco come funziona. Dopo dieci anni di buona condotta in carcere, un detenuto può ottenere dei permessi premio. Questo significa che può lasciare temporaneamente il carcere per tornare a casa e stare con la propria famiglia. Questi permessi rappresentano un importante passo verso la reintegrazione nella società, permettendo al detenuto di mantenere o comunque ristabilire i legami con il mondo esterno. Ma questi permessi non sono concessi automaticamente. Il detenuto deve dare delle dimostrazioni, deve avere un comportamento esemplare e deve mostrare anche un sincero pentimento per i suoi crimini. Inoltre deve presentare una richiesta formale che comunque verrà esaminata da un magistrato che prenderà la decisione finale. Se la buona condotta continua, dopo venti anni il detenuto potrà anche richiedere la semilibertà. Questo regime penitenziario prevede che il detenuto possa uscire dal carcere ogni mattina per andare a lavorare o per svolgere altre attività utili al suo reinserimento nella società, per esempio frequentare dei corsi di formazione, eccetera, e al termine della giornata dovrà rientrare in carcere. Per cui anche la semilibertà rappresenta un importante passo avanti verso questo percorso di risocializzazione del condannato in espiazione della sua pena perché con questa misura il detenuto ha l'opportunità di ricostruire la propria vita acquisendo nuove competenze e instaurando dei nuovi legami con il mondo esterno. E questo dopo ben vent'anni dal suo ingresso in carcere. Tu immagina nel mondo quante cose sono cambiate dopo vent'anni. Chi esce anche se solo per brevissimi periodi si ritroverà davanti un mondo completamente diverso e quindi deve in qualche modo anche riambientarsi. Ad ogni modo, anche in questo caso, la concessione della semilibertà non è automatica ma dipende dalla valutazione di vari fattori tra cui la condotta del detenuto che deve essere sempre esemplare e il suo impegno nel percorso di rieducazione. Dopo 26 anni di detenzione, quindi se il detenuto ha continuato a mantenere questa condotta esemplare a dimostrare il suo sincero pentimento per le ragioni per cui è finito in carcere può richiedere anche la liberazione condizionale. Questa misura prevede che il detenuto possa vivere fuori dalle mura carcerarie pur rimanendo sottoposto a tutta una serie di restrizioni ed obblighi. Sarà quindi di fatto libero ma ad esempio potrebbe essere obbligato a rispettare il coprifuoco cioè a stare in un determinato orario a casa, a non frequentare determinati luoghi oppure non frequentare determinate persone o comunque a sottoporsi a controlli periodici. Anche la liberazione condizionale così come gli altri benefici è un passo importante verso l'inserimento nella società e in questo stadio il detenuto ha l'opportunità di vivere una vita praticamente quasi normale pur rimanendo sotto il controllo dell'autorità. Ed anche qui la libertà condizionale dipende da una valutazione di vari fattori tra cui sempre la condotta del detenuto, il suo impegno nel percorso di reeducazione e il mantenimento di quel pentimento iniziale che aveva dato luogo agli altri benefici ottenuti. Quindi se il detenuto continua a mantenere una condotta esemplare anche durante la libertà condizionata dopo un ulteriore periodo di cinque anni può richiedere la revoca dell'ergastolo. Questa misura prevede la cessazione definitiva della pena e la sua completa, totale reintegrazione nella società. E anche in questo caso la concessione della revoca dell'ergastolo dipende da una serie di fattori che il giudice dovrà valutare. Considera che i controlli che vengono effettuati durante la libertà condizionale possono dare un input ulteriore al giudice che dovrà valutare il fascicolo di questa persona e quindi se è mantenuta quella condotta esemplare tenuta nel corso della sua detenzione ci può essere una revoca definitiva dell'ergastolo. In conclusione quindi l'ergastolo semplice non è necessariamente una pena a vita. Esiste un percorso di rieducazione, di reinserimento nella società che può portare alla libertà anche se è un percorso lungo, difficile e che richiede un impegno costante da parte del detenuto. Ben 26, 31 anni di buona condotta e questo sistema pur essendo complesso e discusso rispecchia il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena cercando di conciliare la necessità di punire i crimini gravi con l'obiettivo però di favorire il reinserimento del condannato nella società. Prima di concludere è importante sottolineare ancora una volta che il percorso che abbiamo descritto non è facile, non è sufficiente scontare il tempo necessario. Il detenuto deve dimostrare, dimostrare di aver compreso l'errore delle proprie azioni, di aver cambiato il proprio atteggiamento e di essere disposto ad impegnarsi in un percorso di reinserimento nella società. Per alcuni questo sistema può sembrare magari troppo indulgente. Dopotutto stiamo parlando di persone che sono state condannate all'ergastolo e il che significa che hanno commesso dei crimini molto gravi. Tuttavia è importante ricordare che il nostro sistema penale si basa sul principio della rieducazione, non soltanto sul principio della punizione. Spero che queste informazioni ti abbiano aiutato a capire un po' meglio come funziona l'ergastolo nel nostro sistema penale. È il diritto penale. Che stè?